Ritorniamo in conversazioni bibliche, soprattutto in compagnia di Padre Ernesto della Corte. Buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana a te e a tutti i nostri amici. Grazie Padre Ernesto per la tua fedeltà e oggi in un certo senso parliamo proprio di fedeltà. Che cos'è il cristianesimo? Una strada per il potere o una strada per servire? Proprio il tema di oggi della liturgia. Mi piace questa tua introduzione, mi trovo davvero molto d'accordo. Si parla di fedeltà e la fedeltà significa ricordarsi della scelta che uno ha fatto. Quindi quando uno sceglie deve essere fedele e quando fa questa scelta deve mantenerla. è quello che oggi non capiscono. Ecco, la fede cristiana non è una corsa verso il potere, l'ambizione del potere, ma è verso il servizio. Oggi ci troviamo ancora una volta lungo il cammino che porta a Gerusalemme. Gesù avverte che oltre le ricchezze c'è una grande tentazione nella vita cristiana, l'ambizione del potere, che poi rende schiavo l'uomo dei propri bisogni e poi lo fa diventare nemico degli altri. Marco per la terza volta ci mette una professione di fede di Gesù. Il figlio dell'uomo sta per andare a Gerusalemme e quindi annuncia il suo mistero pasquale. Bisogna capire la logica del Vangelo a partire da queste profezie di Gesù. Giacomo e Giovanni, che poi appartengono ai primi quattro chiamati, potremmo dire i prediletti di Gesù, sono sempre un po' vicini a lui nei momenti più importanti lungo il suo ministero. Ora, stranamente, proprio loro rifiutano il cammino della passione, fin da quando Gesù a Cesarea di Filippo l'annunciava. Tre volte Gesù annuncia il progetto del padre, tre volte ha sempre una reazione negativa. Tutto parte oggi nel Vangelo da questa richiesta. Maestro, noi vogliamo che tu faccia quello che ti chiederemo. Proprio sembrano i bambini, no? Giacomo e Giovanni fanno precedere la loro richiesta da una sorta di domanda quasi diplomatica. Io la chiamerei anche un po' infantile, perché come i bambini ci devi dare quello che ti chiediamo. Ma che cosa volete? È come se volessero imporre la propria volontà. Matteo, quando rilegge evidentemente il testo marciano, o sa della tradizione di Marco, attutisce, perché invece di far parlare Giacomo e Giovanni, parla alla loro mamma, la quale chiede giustamente di chiedere qualcosa al maestro. Fa che possano sedere alla destra e alla sinistra. Evidentemente che cosa pensano? Pensano di poter avere i posti di onore vicino al maestro. In realtà la risposta dei discepoli è ancora peggiore, perché dicono certo che possiamo avere questo battesimo che tu hai, perché questi due fratelli davvero non riescono a comprendere la volontà del padre che passa nel progetto del figlio, nella missione del figlio. Eppure sono le persone più intime. Mentre si sta profilando un dramma che accorta la passione a Gerusalemme, Giacomo e Giovanni si preoccupano di conquistare un posto d'onore in quel regno di cui chissà che cosa pensano possa essere. Sono ciechi, nonostante Gesù abbia operato sui ciechi, i veri ciechi sono quelli che non vogliono vedere. Pianificano addirittura l'ascesa al potere. E non sono soli, perché quando gli altri dieci si riprendono e capiscono che i due vogliono fare manbassi dei posti d'onore, che evidentemente anche loro cominciano a fare discusione. Davanti a tutto questo, come reagisce Gesù? Gesù parla di battesimo, di immersione. Potete voi essere immersi in quell'immersione in cui io sto per essere immerso. E cioè, quel battesimo è proprio il mistero pasquale. È come se Gesù gli dicesse, siete in grado di poter partecipare alla logica del regno o devo essere io a farvi partecipare? Gesù in realtà sarà al centro di due persone che gli staranno alla destra e a sinistra, ma sono i famosi due ladroni. Ed è la scena della crucifissione. Lo stare alla destra e alla sinistra di Gesù spetta solo al padre deciderlo. Ecco perché a questo punto c'è, Marco ha noto, una reazione di indignazione da parte degli altri dieci che all'inizio non se ne erano accorti. sono un po' indispettiti, un po' gelosi, addirittura valutano inopportuna la richiesta di Giacomo. Forse Marco vuole lasciarci anche nel dubbio perché è importante quella risposta di Gesù quando li chiama e dice ricordatevi che la logica del mondo, delle nazioni, delle genti, è quella di sottomettere, esercitare il potere è questa la logica che noi chiamiamo del mondo. però rispetto ai grandi del mondo, tra voi, dice Gesù, non è così. E questo non è così. È così forte che grida verso di noi, verso quei cristiani che vogliono nella comunità dominare. E il gruppo si sta spaccando. Perché prima Pietro, poi gli altri, ora Giacomo e Giovanni, man mano invece di interpretare il cammino di Gesù in termini di offerta della propria vita, stanno rompendo l'unità, litigando continuamente tra di loro. Sono due da una parte e dieci dall'altra, come se fossero due gruppi contrapposti. Gesù li ha scelti invece perché possono rappresentare un antipotere, una comunità diversa, alternativa. Questa è la logica cristiana. Matteo avrebbe detto non chiunque dice Signore, Signore. È inutile chiedere un posto alla destra e alla sinistra. Bisogna operare nella vita. Ecco perché Gesù fa capire con molta franchezza che se non si rinuncia al potere, se non c'è uno spazio di trasformazione dove la grazia di Dio chiama al servizio verso i più poveri, noi non entriamo nella logica del re. Invece di pensare ai posti della gloria, Gesù vuole far puntare lo sguardo sulla storia e sulla comunità. Chi davvero vuole essere grande deve farsi di tutti schiavo. Di tutti deve essere l'ultimo, non il primo. Si è primi quando si è servitori. E qui, come al solito, Gesù è un esperto di Ossimori, concetti contrastanti per combattere la logica mondana. Ma dà anche un segno particolare. Lui è il segno del servizio. Lui è venuto per servire, non per essere servito. rispetto ai potenti, Gesù si presenta come un modello al contrario. Non è come gli altri. È diverso. Perché lui è venuto per servire, per dare in dono la propria vita per tutti quanti. Questo è il senso di quella espressione quando egli dice del calice. Ecco, il calice, lui lo beve, cioè lui fa la volontà del padre. Lui si immerge nella passione, si sottomette alla volontà del padre. Perché? Perché la debolezza di Dio, direbbe Paolo, è più forte della forza degli uomini. Quindi, che cosa vuol dire questa domenica seguire Gesù? Certamente significa attraversare la vita con le giove, le sofferenze, la passione, anche la morte. Ma questo non ci dà diritto a nulla. Non ci sono condizioni che noi credenti possiamo dare a Gesù. È Gesù che ci fa partecipare al suo mistero pasquale. E la riuscita si vede giorno per giorno in quella lotta contro se stessi. Bisogna davvero esercitarsi nel servizio, senza vantarsi, senza attaccarsi al potere. Altrimenti, anche la stessa sequela viene sfigurata. Il ministero potrebbe essere usato come un potere. La scelta cristiana diventa un'antiscelta, contrario alla fede. Nella Chiesa non possono esserci principi, non ci possono essere padri o parrini, come si dice in Sicilia. Non possono esserci persone che vogliono comandare sugli altri. Gli uomini hanno spesso una capacità di autoingannarsi e questa capacità direi che è quasi sconfinata. Credono soltanto a ciò che vi vogliono credere, guardano a quello che conviene, selezionano addirittura le informazioni per accettare quelle che sono a loro favore o hanno delle convinzioni precostituiti. Ai dodici succede quello che succede proprio a noi e mentre Gesù offre un insegnamento più profondo, noi siamo come loro, non lo comprendiamo. Vogliamo farci un Vangelo a nostro uso e consumo, diceva Benedetto XVI. e in questo modo corriamo un rischio, noi come loro, di trasformare la chiamata in un autoinganno. I discepoli, come noi, pensavano di ascoltare del Gesù ma in realtà portavano di fatto soltanto a galla i propri desideri e le proprie aspirazioni. Credo che nella comunità cristiana i peggiori siano quelli che vogliono sembrare servitori, perché poi tutti ci accorgiamo di chi esercita il potere, quello è l'ambante. Ma quando c'è quella falsa umiltà, quel trasformare il servizio in potere, qualunque sia il servizio che stiamo esercitando come potere è diventato potere e quindi dominante. Ma tra di noi nessuno deve dominare, ma dobbiamo essere tutti unici discepoli dell'unico maestro che è Gesù Cristo. Perché la parola di Dio veramente ci offre giustizia e diritto e quando noi accogliamo la grazia del Signore inevitabilmente il Vangelo trasforma giorno per giorno tutta la nostra vita. Ed è chiaramente un monito questo Vangelo di oggi, attenzione quindi a non farsi prendere la mano come si suol dire. È veramente un monito, direi proprio un imperativo molto forte, anzi quella frase dovremmo ripetere, tra voi non è così, non dice non sarà, ma non è, di fatto non deve essere qui nel presente, ora, perché a volte tu puoi dare la chiave di uno sgabuzzino a una persona e credi di avere le chiavi del regno o quelle chiavi che Gesù diede a Pietro. Davvero il dominio, il potere credo sia la tentazione insieme alle ricchezze più forte e davvero ci tracima nel nostro cuore e veramente ci inganna e quindi corriamo il rischio di perdere la luce del Vangelo. Ecco perché Gesù ama i poveri, i miti, gli umili, perché quando si è poveri nello spirito direbbe Matteo noi confidiamo nel Signore non nei nostri mezzi. Guai all'uomo che confida nell'uomo. Noi la lieta notizia l'abbiamo ricevuta adesso vediamo di metterla in pratica. Grazie Padre Ernesto. Grazie a voi e buona Pasqua della settimana. Shalom. Anche a te, shalom. Grazie a tutti.